Oggi sono molto contento. Torniamo su YouTube. E poi è anche una bella giornata che affettiamo il prosciutto, l'amore mio. No, credevo che era una bella giornata. È arrivato lo stronzo. Ma perché? No, Dio c***o. Ma perché? Ma come perché? Non c'è da stato. Ma perché? Come no? Bisogna affettare il prosciutto senza di me? È senza di te che si fette il prosciutto. Non è che fai tutte le scalette? Sta calmo. Oggi fanno proprio un lavoro certosino. Sta tranquillo, ci penso io. Va bene? Vediamo un po'. Allora. Adesso voglio vedere quello che si fa. Prima cosa, l'outfit non è dei migliori. Che? L'outfit. Ma che è l'outfit? L'outfit non è dei migliori perché è il periodo natalizio. Affettiamo una cosa che comunque dà calore, dà emozioni. No, questo si mangia. Ho capito. Ma che calore? Non siamo vestiti per bene. Ma la... Ma fammelo. Dammi letta. Guarda. Ma fammelo. Concentrate un po' sul Natale, dai. Natale, 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 Natale. Oh, adesso si. Adesso si. Adesso si che? Adesso è il clima natalizio. Ah. La sera canzone di Natale. Ma vedete mai un altro prosciutto, non stiamo tanto ammallati alla lunga. Com'è il verso? Il verso è questo, così. Come? Ma pure, prima di arrivare la conica. Come la levo? Oh, lei c'è un po' la meglia. No, no. La. Così? E beh... Non sentivo un po'. Fermate, ma che fai? Eh, sento se dentro c'è. Ma tu la tagliala di qui e andrà giù. Guarda, no, io farei la tartare così. Fermate, no, no! Ma io c***o! Ma che c***o fai? Ma stava a fare la tartare. Ma ferma, me la taglia da giù! Volevo fare la tartare del prosciutto, pensate. Eravamo i primi a farla. No, taglia per bene che invece di chiacchierà. Che odore, buono. La conica di qui che mi va bene. Che? Eh, taglia! Ma che? La conica l'aveva tagliata qui? Che ne aveva tagliata? E' questa, da di qui. Anche di qua. Mannaggia! Fermate! Mannaggia! Eh, tocca da agli per bene di qui. Fermate! Ma guarda che c***o fai! Che è? Ma fare in campo lavorare! Che vuol dire? Dio c***o! È impossibile che questo non capisce niente! Ma come si fa? Ma non è vero che è fatto tutto forte! Ma che i fossi dei che? Metti giusto colpa, ma taglio io, no? No! Eh, no, no! Mi spero che tu sia buono! Ma sei buono tu! E insomma, è che? Mi smussavo un po'. Come la mette? Per cui mettono così! Come? Mannaggia! Da, così! No! Sì! Ma insomma, me la sto a parte e c***o da me! Ma è possibile che se vuole la mette qui dentro? Ma come la mette? Versa signora? Come la mette? La mette qui dentro! Come la mette? Fuora! A me! Dai, ma che la cucina? Tira avanti! No, la mettono dentro! Che è il petto di lì sopra! Ma la mettemo un po' impennato, no? La metto giù di qui! Va più avanti! Adesso? Stringi! Dove? Stringi! Dove verso tu? Lo stringo! Ti ho poi quell'altro! Ecco, vai! E guarda come c***o l'hai messo! Ma tu mi devi dire qualcosa! Come sei nato? E come? Come sono? E tu sei là per dietro, non lo metto davanti! No, ma no! Il mio cuore! E ti li sto stampare! Sì! Chiappici! E tu sui buchi non c'è chiappe più! E c'è chiappe tu no? Oh, guarda che perfezione! Guarda! Guarda! Tagliati qui sotto! Ma che c***o ti fa! Guarda che c***o fai! Guarda che c***o fai! E non è cominciato a dare guadro! Ma non sta scritto! Oh, mannaggia! Come fai? Ah, avveni su! E avveni giù no? Avveni su, avveni giù e andai giù assù! Mannaggia, come questo! Ma tu sei uno st***o con rimotti! Sì, va bene! Intanto, sentimo se è buono perché tutti sti versi! No! Dai, cin cin! Cin cin! Cin 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 cin! Mamma mia! Che prosciuttiva! Ma non fai le scarotte! E ora cominciamo a giù! Ah, mettiamolo giù questo! Ma non fai le scarotte! Ma che c***o fai? Ma che c***o ti fa tu? Ma guarda la pistetta! Non la fai le scarotte! Ma come la fai? Ma la fai più fina, no? Più fina in che senso? Ma non la fai la c***o! Non ci sei mai tanto giù! Mica sono affettatrice! Ma che fai? Ma andiamo a trappare! E' un po' di capelli! Ma guarda questa! Ha come in c***o! Sta l'unica da di qua! Ma di qua? Di destra o sinistra? Che ne so? Ma qua a sinistra! Ma qua a sinistra! Da destra o sinistra? Da sinistra o da sinistra? Da destra o sinistra? Da destra o sinistra? Da destra o sinistra! Ah! Ma la destra qual è tu? Ma c'è il fiocco! Quindi se... Qual è la destra? Vi ricordo che questo bel prosciuttino Si trova sulla dispensa di nonno Faustino C'è il link in bio Un po' di link in bio Link in bio Link in bio In bio In bio In bio In bio In bio Lo trovate su Instagram Su tutte le mie storie Cliccate E va arriva a casa Senti come suona Ma sta fermi Che questo è un'altra suona Questo è un'altra suona Ok Guarda adesso che taglio Ma è che? Ma è che? Ancora di strada Mamma di questo Questa Questa Che non vedo niente è meglio Fermi Ma è che non vedo niente Ma tocca a finire il video Ma a me è meglio Tocca a finire il video Ma che roba dica Da finire tu E cagliate tutto Tutto a zampi E faccio E faccio Le faccio Le faccio Le faccio Le faccio Le faccio Ma mi ha detto Quei c***o Non l'hai visto mai A fatti lavori Voglio andare via Voglio andare via Voglio andare via No ma perché? Voglio andare via Le minacce no Oh Io voglio andare via Aspetta Fammi gli auguri a tutti Prima di andare via Dai Se lo meritano Auguri a tutti E buon Natale Meglio 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 Auguri a tutti voi Continuate a seguirci Fermo Fermo Ciao a tutti ragazzi Un abbraccio E buon Natale